Nella tumultuosa causa di divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez, l'imprenditrice e influencer è assistita dalla famosa avvocata matrimonialista Daniela Missaglia, coinvolta dallo stesso rapper in uno dei suoi ultimi brani. Nel testo di allucinazione collettiva, Fedez chiede scusa per aver coinvolto l'avvocata in questioni personali. Missaglia ha espresso il suo disappunto in un'intervista al Corriere della Sera, definendo il comportamento di Fedez triste e scorretto. Essere citata in una canzone non è piaciuto affatto all'avvocata che sta seguendo il divorzio di Chiara Ferragni. Missaglia ha dichiarato che ritenere privati fatti legali è importante e ha mantenuto riservatezza su questi argomenti. Ha criticato il comportamento di Fedez che ha reso pubblici dettagli privati. Nell'intervista Missaglia ha parlato anche dell'accordo raggiunto tra le parti riguardo all'affidamento e all'esposizione sui social dei figli della coppia Leone e Vittoria. Ha sottolineato l'importanza di non esporre i minori e ha criticato il cambio di atteggiamento riguardo alla privacy dei figli. L'avvocata ha elogiato Chiara Ferragni definendola semplice ed educata e ha raccontato di aver costruito un rapporto di fiducia con lei. Le due sembrano essere molto unite nel perseguire obiettivi legali comuni. Missaglia, esperta anche di altri divorzi famosi.